Allora sono qua in Solidworks e ho fatto un'analisi frame di questo albero qua. Volevo sottolineare questo comando che può essere molto interessante, cioè per trovare i punti di singolarità, cioè quei punti dove il risultato non converge e dunque non sono attendibili, anche se poi in quella zona lì, solo lì è attendibile, poi allontanandoci da quella zona lì, comunque questo non inficia gli altri risultati. Ok? Dunque vado qui col tasto destro, faccio diagnostica hotspot di sollecitazione. Questo mi trova dei problemi a come ho disegnato il pezzo, se problemi, dunque dei punti in cui questi punti non sono attendibili i risultati. Ok? In quei punti lì. Dunque clicco qua col tasto sinistro, qui io posso, aspettiamo, spostiamo qua, vediamo se riesco a spostare. Ecco qua, sì, ok. Questo fattore di sensibilità magari più questo va alto più ci mette tempo, ok? Lasciamolo attorno a 70, metto anche valori nodi e andiamo, esegui diagnosi hotspot di sollecitazione. Dunque clicco qua, ok, e lui mi ha detto, ok, guarda che io non ho nessun hotspot di sollecitazione rilevato. Se voglio essere più sicuro ancora, magari vediamo facendo qui, eseguriamo, andiamo a vedere. Di solito lo spot sono dei spigoli vivi e così via, ci dovrebbero essere dei problemi rilevati hotspot di sollecitazione, ok? Dunque le massime sollecitazioni osservate in determinate aree del modello potrebbero indicare singolarità di sollecitazione. Valori di sollecitazione localizzati che divergono all'infinito. Se gli hotspot di sollecitazione sono vicini a spigoli vivi rientranti, è consigliabile applicare alcuni raccordi per arrotondare i bordi, al fine di evitare le singolarità, ok? Sono vicini a spigoli vivi rientranti. Ok, andiamo qui, andiamo a vedere quello che è, dunque, naturalmente questo, perché io qua ho uno spigolo vivo, ok? Dunque, bordo 1, andiamo a vedere l'altro, bordo 2, bordo 2, qual è l'altro, ok? Allora, bordo 1 è questo, e il bordo 2, non riesco a vederlo. Ah, è questo qua sotto, è questo del, del, come si chiama, vabbè, questo non mi interessa, eccolo qua, eccolo qua, è quello del foro, sì, vabbè, questo non mi interessa, infatti volevo, volevo anche, qui non ho fatto il raccordo apposta, volevo anche non toglierlo. Comunque, andiamo a vedere, adesso, livello di finitura mesh, andiamo a provare, ok, proviamo, esegui diagnosi di singolarità, di sollecitazione, ok. Andiamo a vedere, e dovrebbe andare a controllare quei due bordi, dunque, con il risultato, vediamo se è un punto di singolarità o no. Ok, vediamo. Adesso fa la sua simulazione, riducendo la mesh, e dopo dovrebbe venire fuori con un grafico. un video, è un video, aspettiamo un attimo insomma e accenderò questo il video edit che accelerò sì perché è un po' lungo ma ho messo anche tre e dunque siamo a posto poi col fuoco poteva anche togliere ormai grazie a tutti bene abbiamo così finito dai 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 grazie a tutti dai ci siamo quasi dove togliere anche un po' di risultati che aspetta dunque rilevate singolarità di sollecitazione la maggior sollecitazione osservata lungo i bordi principali di uno o più spot di sollecitazione di natura divergente con successivi aggiornamenti mesh questi bordi sono considerati la causa delle singolarità di sollecitazione prendere in considerazione la possibilità di arrotondare i bordi con raccordi per evitare le singolarità di sollecitazione dunque uno di questi due o entrambi è una singolarità dunque lì il risultato non devo tenere in considerazione dunque andiamo a vedere ok andiamo a vedere dunque questo mostra isola singolarità di sollecitazione ok andiamo a vedere ok andiamo a vedere ok andiamo a vedere ok ok andiamo a vedere dunque questo qui questo blu che è il bordo 2 dunque il bordo 2 mentre questo dovrei fare un'altra sollecitazione dovrei fare un altro livello per vedere se perché questo tende sembra che tende e dunque questo è di sicuro divergente dunque il 2 è sicuramente divergente ok, mentre l'1 che è questo qui, il 2 è questo, è sicuramente da quel grafico lì, dovrei fare un'ulteriore sollecitazione per vedere perché sembrava che, al di là che qua comunque avrei messo comunque un piccolo raccordo, però sembra quasi che alla fine poi lui rientri, ok, dunque lì bisognerebbe fare un livello di rifinitura ulteriore per vedere se parte o no, il secondo è sicuramente che parte perché il secondo si vede subito che parte, qua invece a mio avviso il primo, il bordo 1, che è questo, ok, bisogna vedere, bisognerebbe vedere, ecco, perché sembra che tenda, però non è detto può darsi che sia divergente anche questo, ok, questo è di sicuro, vabbè, qui comunque si mettevano d'accordo e questo lo eliminavo perché non mi interessava comunque questa foratura qui, ok, ci vediamo la prossima, arrivederci.